Scampia, uno dei quartieri di Napoli più popolosi e degradati. Di Scampia conosciamo quello che ci viene riportato da giornali e televisioni. Storie di camorra, droga, violenza, degrado. Ma qui c'è anche altro. Ci sono persone, associazioni che si battono per riportare legalità nel quartiere, non violenza, cittadinanza attiva. Alcuni ragazzi dell'Istituto Einaudi di Correggio hanno condiviso nei giorni scorsi, insieme agli studenti del liceo Ols Morante di Scampia, una grande esperienza formativa e di vita, uniti da un patto di gemmellaggio nato per dare vita a forme di confronto e di collaborazione sul contrasto alla criminalità e sulla diffusione dei valori della legalità. Noi viviamo il pregiudizio dell'essere periferia non solo di Napoli, ma anche di essere nota per come sede di spaccio, insomma per tutte le negatività. L'idea è che ci piaceva mostrare ai ragazzi della scuola, come nostri, una scampia diversa, che è la scampia che viviamo noi quotidianamente. Noi come scuola che lavoriamo con le associazioni, scampia è ricca di associazioni, ci sono almeno una ventina di associazioni che lavorano molto spesso in collaborazione con le scuole. A questo progetto sta collaborando anche il sindacato pensionati SPICGL di Reggio Emilia. A Scampia studenti e docenti dell'Istituto Enaudi di Correggio sono stati ricevuti da una rappresentanza di studenti delle diverse scuole del territorio, con i quali hanno condiviso una giornata. Scampia non è solo quello che fanno vedere, tipo le serie tv, queste cose qua, perché a Scampia ci sono molti ragazzi, tipo come noi, che comunque vanno a scuola, fanno parte della vita attiva di Scampia. Scampia sono anche queste attività per far aprire la mente alle persone, per far capire che noi siamo della brava gente. È servito anche ai ragazzi di Correggio venire qui, perché comunque ci sono pregiudizi, anche per esempio su noi ragazzi di Scampia, cioè alla fine siamo come loro. Comunque si deve fare qualcosa di più qui, uno deve cercare risorse e qui non andarsene. Nel quartiere ci sono molte associazioni che cercano di contrastare la criminalità, progetti importanti come Pangea, Dignità e Bellezze, Giardini Ritrovati e poi c'è il Centro Ruttado con il volontariato di padre Fabrizio Valletti. Cerchiamo di dare e offrire ai ragazzi del quartiere delle opportunità di studio, di cultura per i più grandi di formazione al lavoro e infine con una cooperativa la possibilità anche di sperimentare un lavoro onesto, legale. Si pensa a Scampia come una zona dove vi è camorra e il dominio assoluto dell'illegalità, invece no, vi è anche vita normale, vi è vita civile, vi sono iniziative meritevoli come quelle che svolgono le varie associazioni che abbiamo incontrato, come quelle che svolgono gli studenti del liceo Esa Morante con i quali noi ci siamo confrontati. Altre importanti tappe sono l'Arci di Scampia e l'associazione culturale Gridas fondata dall'artista Felice Pignataro. Il viaggio a Napoli si è concluso nella Sala Giunta del Comune, dove l'assessore Enrico Panini ha ricordato l'importanza dell'etica e della responsabilità di tutti, un obiettivo richiamato anche dalle parole che campeggiano sulla piazza di Scampia.